buongiorno ben trovate sul mio canale e faccio questo piccolissimo video per raccontarvi tra virgolette una cosa vi capita mai di acquistare del materiale perché avete in mente alcune cose poi lo lasciate lì da parte prese poi da tante altre cose ve lo quasi dimenticate tra virgolette a me è successo con questi connettori tipo credo all'incirca due anni fa avevo iniziato a realizzare alcune creazioni in brick stitch e quindi avevo preso alcuni connettori tra i quali una bustina di questi a forma di goccia e sulla bustina non c'è scritto nulla io non ricordo più dove li ho acquistati e e appunto adesso in questi giorni avevo riacquistato i cerchi cuori per creare praticamente sempre degli orecchini a brick stitch e ho ritirato fuori anche questi ho creato un orecchino anche con questi e soltanto che appunto io non ricordo più dove li ho acquistati e dato che ci tengo comunque a non mettervi tra virgolette in difficoltà ho deciso di fare una cosa per le prime di voi che lo prenoteranno preparerò il kit per realizzare gli orecchini in questione e quindi ci saranno due elementi che non sono facilissimi da reperire o meglio questi sono un po più semplici sono i perni quelli da 4 mm che sono quelli più piccolini di solito si trovano da 6 e da 8 molto più facilmente io invece utilizzo molto questi da 4 perché faccio spesso dei orecchini a lobo molto piccini e quindi mi occorrono questi piccolini o anche quelli da 3 e quindi appunto nel kit ci sarà il materiale per realizzare questo nuovo orecchino che fra poco vi mostrerò e quindi i connettori e i perni per creare il perno e ce ne saranno purtroppo solo otto a disposizione non ne ho moltissimi alcuni ovviamente li ho ottenuti per me e quindi ne ho potuti realizzare per voi solo otto ma veniamo al nostro orecchino l'orecchino sarà questo a me piace tantissimo mi piace molto questa forma mi ricorda tanto quei motivi indiani quei motivi appunto così esotici e mi piaceva molto anche con il perno formato dalle quattro perle però le perle di questo colore le avevo terminate e quindi in questo caso ho realizzato il perno appunto che avevo creato ieri allora scegliamo quindi insieme il nome mentre io vi registro il tutorial quindi vi basterà commentare qui sotto per scegliere insieme il nome per questa creazione e la madrina in questo caso vincerà un mio schema a sua scelta da scegliere sul sullo shop etsy per tutte coloro che parteciperanno ci sarà la possibilità di acquistare un mio schema su etsy a soli tre euro quindi per voi che parteciperete a questo giochino vi basterà contattarmi e potrete avere questa super promozione ed avere un mio schema a soli tre euro sapete bene che i miei schemi costano tra i 9 e i 10 euro solitamente però mi piace spesso fare queste promozioni per chi mi segue più assiduamente e quindi per oggi per chi parteciperà e giocherà insieme a noi e può avere questo piccolo regalo appunto e poter scegliere uno schema a soli tre euro vi ripeto quindi ho a disposizione per le più veloci di voi che si prenoteranno otto kit per realizzare il questo orecchino i kit hanno un costo di 10 euro compresa la spedizione posta uno dovete contattarmi in privato per prenotare il vostro kit e potete anche scegliere eventualmente di cumularlo con altre promozioni che ci sono anche sulla pagina tipo il pacco sorpresa oppure sto realizzando anche un altro kit sempre in brick stitch per gli orecchini ovali che vi avevo mostrato qualche giorno fa quindi a disposizione c'è il kit per questi orecchini dobbiamo scegliere insieme oggi il nome e il kit a sorpresa e troverete le informazioni sulla mia pagina facebook di cosa si tratta e anche il kit sempre per il brick stitch per gli orecchini ovali e anche il kit per gli orecchini ovali ha un costo di 10 euro compresa la spedizione posta uno se acquisterete più kit insieme avrete la spedizione con corriere vi vi lascio quindi io inizio a girare immediatamente questo nuovo tutorial voi lasciatemi qui in info box scusate qui sui commenti il nome che mi suggerite e affrettatevi a prenotare i vostri kit vi aspetto potete scrivermi in privato sulla pagina facebook anche sul profilo personale oppure inviarmi una mail un abbraccio grandissimo e a prestissimo ciao